niente le ho perse dimmi che ne hai un altro paio a casa sai che vuol dire ora concessionario cambia il blocchetto no troppo consumata adesso non posso rifare nemmeno la coppia ma come la batteria va appena cambiata telecomando può rifare solo il concessionario duplichiamo telecomandi auto chiavi autocodificate chiavi cilindro classiche funzionate chiavi doppia mappa chiavi dr sicure m e gusci sostitutivi per chiavi auto grazie grazie questa la prendo io grazie ferramenta marchetta la copia perfetta